E' venuto l'elisoccorso, l'ha portato via, non sappiamo niente adesso. Stiamo aspettando di sapere qualcosa. Diciamo che non sentiva le gambe, quindi non lo so. Chi si trovava nel cantiere al momento dell'incidente è ancora sotto shock. Racconta di aver visto cadere da diversi metri d'altezza l'operaio di 65 anni, finito questa mattina in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza per una sospetta lesione alla spina dorsale. Ho avuto un giramento di testa, è caduto dal tetto. Stava prendendo il materiale, il materiale è scivolato, lui per prenderlo, se l'ha tirato dietro, è andato giù anche lui. Lei lavorava con lui? Io sono l'impresa che è subappaltatrice, dagli anni 80, i primi anni 80 che lavora per questa ditta. L'uomo stava lavorando alla ristrutturazione di questa cascina nelle campagne di Robecchetto con Induno nel Milanese. Poco dopo le 9 l'incidente l'ha chiamata ai soccorsi, arrivati insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco. La dinamica dei fatti è tuttora al vaglio delle autorità che dovranno verificare se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza.